Musica Bentornati amici del gameplay su Chiamo Oversize Sono 390 e siamo ancora su Mad Max Il nostro Max ha cambiato un po' look Ho sbloccato gli equipaggiamenti migliori rispetto a quelli che avevamo prima Vedete la giacca, il tirapugni, i parabracci E ha cambiato anche la sua pettinatura un po' più incolta Mi ha fatto crescere un po' la barba Ok, adesso siamo pronti ad uscire la nostra macchina Ho cambiato anche la carrozzeria Questa quella che ti davano con l'espansione E siamo pronti ad andare a prendere invece la parte di carrozzeria Per l'accangelo Per le macchine quelle speciali Adesso andiamo Si trova giù, 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 giù Mamma ragazzi Quanto deserto È incredibile Purtroppo è un'ambientazione ormai già vista e rivista Però Sulla 360 uscì Rage Per PC 360 Molto simile come ambientazione Anche quelle di Borderland Anche se In Sir Shading però sono sempre È tipo questa sempre Capisco anche che Oddio Capisco anche che Post apocalittica Con il mondo Pieno di radiazioni È questa alla fine Senza acqua Comunque è una cosa arida E desertica Quindi non è che si possono inventare Chissà cosa È vero Ma sono curioso di vedere adesso Che sblocchiamo il progetto di quella macchina Completa Sono curioso di vedere cosa cambia Cioè Se è effettivamente più fuori Oddio sto veloce Adesso non si chiappa Fortuna ho lasciato quello Che fortuna ragazzi Vai muori Vaffanculo Questi pezzi di merda Non mi hanno toccato però Sto migliorando Prendiamo tutto Questa è la carrozzeria Che quello sta a strillare Ne fa via i corpi Ne fa via Allora Prenderla così Sta qua accanto a noi Non serviva a lanciare il razzo Allora Il carrozzeria è sbloccato Bene Rottami Vabbè Che cazzo c'è 300 rottami Dobbiamo raccogliere Ragazzi Vi utilizziamo questa cosa Mamma mia Ok ragazzi Ho consegnato i rottami L'ho presi Mamma mia Allora Allora Sì C'è un cazzo di questo Siamo di livello Quindi usa il garage Per montare i potenziamenti Del factotum Arcangeli Eccolo qua Allora quale dobbiamo mettere Possiamo mettere tutti due Ci abbiamo 600 rottami addirittura Scarico vai Ok Ok E l'ultimo Costo zero Shower phase Bene Mettiamola Ora la nostra macchina è cambiata Manca l'ultimo Lo farà in missione Bene Perfetta Guida fino alla fortezza Di good cash Ragazzi Andiamo Andiamo ragazzi Finiamo questo cazzo Di factotum Get Gut cash Sarà la pronuncia Giusta Ci aspetto Combattimento alla fortezza Forse Attenzione Eh Staparte di costruzione Dei arcangeli C'è L'hanno resa Indispensabile Però boh Rallenta un po' il gioco Perché noi stavamo andando Spalti con la storia Ci siamo bloccati per Costruire questa Cavolo di macchinetta Andiamo Andiamo Mamma mia Eccoli qua Già Infatti Ahia Non so se Affrontarli O scappare Oddio Che cazzo Sparano Bull cash Bull cash Ci deve vendere la corazza Oddio E quella C'è sempre una nave Ragazzi Tutto bene Ovviamente l'acqua Si è prosciugata Si è Sottomarino Sempre una nave Sembrano Quindi C'è un'altra nave Proprio sinonimo Del prosciugamento Degli oceani Proprio Attenzione Perfetto Che vuol dire Bella vista Sì Sì è lui Anche questo qua Non è sano C'è L'acqua L'acqua Si 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 C'è L'acqua Ci abbiamo Non altro Sincerà Mi Cosa In Prego non mi trovo il 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 c disarci ma ecco che c'è ma se anche rischi stessi fai a posto lingua strana santuari cosi scuola in stranque il fiume resta riempie rai mandagli un dito nero, sembra un le sporche di olio, e di grasso dai una missione su andiamo a parlarci, sicuramente è così, guarda, a palla proprio quindi queste potenze non sono nemiche, la fine del nemico è solo uno, non mi sembra non così dov'ho trovato il filo? faccio do per ora, trovo il filo di filo dove lo trovo il filo? ecco il filo per stare a durare, sta qua dentro spero anche questa è da potenziare? o se potenziano una fortezza? se si potenziano tutte contemporaneamente questo è da vedere ragazzi vedete ci andava la lampadina che non ci vedo niente welding wire eccolo qua perfetto perfetto, andiamo voglio vedere proprio sta macchina finita, porco cane dove si andava, vedi qua dove stai a farla? c'ho mal di pancio andiamo cobo di notre dame fammi vedere sta macchina finita va ah, devo far così ah, come era? garage arcangeli, diamo l'ultimo pezzo subito TADADADADADADADADADADADADADAM TARTOTUM e vai, finalmente e quindi adesso? andiamo un po' missione strana operata un classico dovere desolato che missione difficile ragazzi mamma mia mamma mia quanto è difficile è matto questo ragazzi è proprio matto bene allora per adesso possiamo chiudere quel video è un video un po' povero ragazzi però purtroppo non è colpa mia ma è colpa del gioco andare avanti significherebbe allungare troppo il video quindi per adesso ci fermiamo qui io vi ringrazio ringrazio tutti quelli che hanno messo mi piace che stanno guardando i miei video e commentano anche vi ricordo ragazzi commentate sempre che a me piace leggere i vostri commenti e niente dal nostro factotum è tutto e ci vediamo nella prossima puntata ciao ciao ragazzi